Salve a tutti, sono Gianni Mortoccia, vengo dalla provincia di Firenze, Toscana, Italia e ho 63 anni e mi occupo ancora di carpentieria metallica, anche se sono prossimo alla pensione ma in Italia insomma ancora pensione è un miraggio, comunque piano piano vogliamo rifarcela e niente, mi sono qui in Moldavia, mi sono in Moldavia in questo momento per la cura dei denti e devo dire che mi sono trovato benissimo, non mi aspettavo tutto questo, dalla professionalità all'accoglienza, tutto, la pulizia specialmente, dire il tuo palazzo, sapere cosa trovi, ma io devo dire la verità, ho trovato veramente per tutta una famiglia che insomma si sono tutti occupati di me come tanti altri ospiti e clienti, io mi sono trovato benissimo, si sono ovviamente fatti in quattro per l'accoglienza, per farmi il lavoro e poi una cosa che non è di basso profilo è il fatto che ho speso giusto, un preventivo fatto in Italia era improponibile per le mie possibilità, mentre qua insomma con un terzo, un terzo di quello che mi avevano preso in Italia ho risolto e penso di aver risolto bene, anche se diciamo la logistica un po' insomma il viaggio che comunque deve venire tre volte, insomma un po' di impiccio c'è, però insomma dai alla fine poi il risultato è quello che conta, io mi sono trovato benissimo e lo raccomando, cioè io per quello che posso dire della mia esperienza lo posso raccomandare tanti altri perché sono, sono splendidi veramente e mi sono trovato benissimo, questo penso dovessi proporre al mio figlio di finire qui, glielo dico subito vai perché sono, sono bravi e ecco